salve a tutti amici artisti e bentornati con la serie di maricraft terza puntata siamo qui dopo tipo tre secondi una settimana ma in realtà tre secondi come abbiamo detto nella scorsa puntata certo e tutto penso che mari devi mangiare perché sennò non mangi mangiare eh sì però si fa una seconda vita ecco ok allora dobbiamo in pratica vabbè vogliamo fare una cornice che cazzo è ok ci niente dicevamo che metti questi blocchi vai e intanto sono finiti e non si è fatto notte c'è ma qui qua come facevo avesse perché prima abbiamo fatto vedere il fatto dell'original l'original che non siamo farabutti basta allora dobbiamo fare in legna 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 tanta legna legna non si gare c'è tanta legna la tosse poca tosse giovanotto certo che mi sto cioè noi una volta che abbiamo fatto il video no cioè ho anche tipo un pezzo quello controlliamo e mi sto sto iniziando a notare che l'audio ci sente molto bene rispetto a quello di prima voglio dire ho speso soldi per il microfono ho fatto una box in cazzo come la faccia quasi a mangiare un gelato deve essere utila qualcosa no penso che hanno che lo spari sull'erba come ho fatto a testa in giù perché c'era l'erba ok quindi questo di qua questo qui 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 è una torcia a piacere ma sì in caso alla piacere una cosa rapida dobbiamo mettere un cartello sopra questo albero scrivere albero leggenda vero si o ignoto una roba del genere e non abbiamo materiali legna bruciata perché la vita oscura a cartello leggendario come lo chiamiamo volante antigravità antigravità antigravitazione devo metterlo di cose perché non voglio far cadere lo scelta c'è questo è nato così il mondo l'ha generato così in volo come lo chiama albero o no alberto poi se vi viene qualche idea la suggerite nei commenti noi magari volendo possiamo modificare un nome più simpatico antigravità 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 la cosa di windows vabbè si mangiamo il manzo allora si ma guarda fammi no no ok riempi qua spiazziamo questi pezzi questi blocchi per fare il tetto con la speranza che non pagano coppa baci cosa molto probabile molto probabile ma ci sarà sicuramente da ridere qua dobbiamo abbassare così penso di sì che seguiamo l'andamento del titolo cosa che possiamo alla mini piscinetta un'idea visto che piace entrambi riuscirò a mettere questo pezzo senza andare giù ecco che ce l'ho f***o ah guarda chi sta incazzo sempre io poi cosa lanci qualche madonna a piacere come? è una madonna l'attimo l'attimo di pausa riflessione e la madonna parte ecco qua per essere più rapido però penso che bagabascio praticamente e invece due palle così ma io ci devo riuscire piccolo stronzetto ecco, hai visto? quasi il finale ora devi spottare un blocco eh sì sì vediamo vediamo no 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 con la mano con la mano come la mano come? con questa? e poi le mano con la terra spaccolata ah ecco e dicevo in quale mano se ce n'ho due con i quali sto giocando questi li prendiamo dopo? ancora siamo saliti sì finalmente perché sennò è quanto si sembra lo bagabascio anche perché è quasi finito questa parte qua sì no mannaggia vedi ma è bazzicola e come andrà a finire giù così facile qua una roccia ci voleva no? bene adesso io sto pensando sempre una cosa come il fatto della puntata scorsa no? noi che siamo quelli del papà con la nostra fortuna ma in gratt si è bloccato è certo però almeno io poteva mancare questo? no no non ci facciamo mancare niente ma è una gioia si blocca ma noi niente andiamo avanti vabbè giusto perché almeno ora abbiamo un posto giusto non un tito chi non può dire c'è un tito però un posto quattro mura almeno stiamo dormendo ok eccoci qua ma vai a prendere torniamo a caccia di legna 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 si sempre legna sembra boscaio boscaiole come vedere si è ripreso che stavo dicendo prima che ma via la legna e quindi ci vuole un'ascia e che hai hai un'ascia ma se non c'è petto si chiama anche lui si è un'ascia io il segone ecco qua un tovo di legna erba è un legno erba si si stavo dicendo ma sempre noi perché siamo quelli del passato si che veniamo dal passato sono passate tre settimane da quando abbiamo cominciato e che sarebbe adesso che video abbiamo messo che abbiamo messo Venom la prima c'è la prima puntata si poi seguire c'è quello con sa sa si è la terza chi cazzo lo sa ma non lo so di sicuro qualcosa no 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 non fai il mona mi dico Mosconi magari un bel video con Germano Mosconi non ci starebbe male ah oppure quella che Mari sta preparando no Mariana non risponde no è un tu uno gli aveva chiesto di fare un video su come si faceva il corpo umano cioè come si disegnava come si realizzasse un corpo umano quindi penso che e potrebbe darsi che esce quello si dipende un pochino anche dal tempo ma non ha nessun ma anche ma anche è certo ma è una gioia ma è una gioia ma è una gioia ma è una gioia ma sarebbe un grande video penso che la gira di ho impriso abbastanza legno quando siamo 22 ah beh ma voi trasformate ok aspetta 22x4 88 61 stacche qualcosa mi sono perso dentro lo schiazio di qua ah si eh me l'ho perso un attimo ora che l'ho ignorato un ragno ignorante l'ho ignorato di qua allora vai sulla crafting ma andiamoci dentro dentro adesso 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 gli faccio ma non ce ne vogliono tanti perché mancavano pochi nei momenti in cui si è bloccato questo bastardo sempre bastardo farà butto a cattone allora ok altro qui 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 e questo anche tre ah se dobbiamo farne tanti perché dobbiamo farne ma là ce ne volevano 4-5 sì ma dobbiamo fare la parte di sopra ah ok vediamo 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 aspetta wow tipo 60 60 mila vai di sali sali eh è sempre facile sali sali o cadi forse cadi scadi scavolini ma no forse facendo così è più semplice dai se non salgo così ok ma devi andare di qua bravo perché ci vogliono qua ma sai che dovremmo provare a fare però sarà una casa cazzuta eh lo fece tipo surri però un po' di tempo fa il video un video di minecraft l'aspetta quello si è andato così no l'ho visto l'ho visto sì sì a 360 gradi però capi com'è colmi che si può vedere col visore ah cioè non so come la fai come non so come eh poi magari cerchiamo il modo per sì vabbè il modo per il modo stiamo alla terza puntata va bene ci sta una mezza casa che si di terra ma cioè allora voi dovete pensare sempre ai piccoli anedditi della prima del vecchio minecraft noi la casa l'abbiamo fatta in una puntata cioè nel senso invece per fare più soldi più tempo più video più video più video possibili abbiamo fatto capito ma non mi ando un po' la situation e poi tra l'altro c'erano anche le shit quindi c'era anche città vabbè questo è tutto regolare dai c'è diamo in prima la dimostrazione gambe da controllare gambe no problem creative sti cazzi eccolo qua la terra eh sì perché in pratica dobbiamo vabbè poi la spacchiamo dopo la mettiamo sotto come base e poi la rimuoviamo vabbè per noi fai una specie di basso no quando sempre entra sempre nel raggio di sono brava nella ragione di caduta quindi ci mette niente è roba mia cari ecco boom hai visto cosa aspetta vabbè fatto da sotto è la prima volta che ti ha dato un amato si arriva comunque allo scopo vedi si ve la devi prendere un sacco io penso che dobbiamo fare un taglio vabbè finisci sennò si vanno due palle così ma anche quattro palle appena troviamo una tardietta dobbiamo rinominare quel ciugino in stalker perché eccoci qua tu mi dicevi devo risalire la fai facile dico tu la fai facile aspettami come sera certo ho messo cucco a noi notte buonanotte sti ciao sti vedi come hai rilassato c'è da fare ah infatti si vai mi stavo smarrendo allora mi sembra guarda tu sembra da qui e se ho pochi di tossi già ti manca mai penso che un giorno qualcuno farà una compilation di tutte le volte che ha il tuo sito fa alter alterna tosse e bestimie tosse e bestimie sarà una grande compilation acquistatela tutti mi raccomando acquistatela tutti è una mia compilation perché era abbastato che la metterla si farà un sacco di bisogno di soldi grazie a noi grazie ai tuoi colpi di tosse io di troia e noi ci faremo la reaction eh certo e gli lancio qualche madonna che se l'è meritata voi io penso che devi fare un video con Blur ecco questo è un appello a Blur se ti va di fare qualche video e lanciamo madonna a disposizione ci sta ci sta e che fai non lo piazzi in Blur ora ecco tutti quanti sotto hai un video di Blur sulle Mariano Bagheetti per queste piare insieme grande stima un altro qua allora un altro ancora qua che cazzo l'ha mise se stai lasciata da qua ah mi ha messo lui ma va che cazzo l'ha mise se cazzo crescino come i funghi si ma se proprio che l'ho fatto io sto strato non ce la poteva mai fare ma anche no ma anche si ce la poteva forse fare tra quindici anni si ce l'avevo da fare ok aspetta piazza un blocco no così e perciò ne uno scendiamo un attimo si 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 ok poi allora la mangi gru lo voglio cuocchio rum ma che fa ok allora così a beh penso che mi facciamo un attimo un taglietto perché se no ci vuole dopo ok ho fatto le cose ci vediamo che ci serve ok in pratica la vuoi chiudere così eh si poi lo facciamo accuop le cazzo accuop le cazzo no perché poi non mi è chiaro tu come sei intenzionato a fare il secondo piano perché questo deve avere un secondo piano eh si e fai il sottotetto è una cosa di lusse diciamo villino con piscina vendesi in zona isolata con morti morti viventi in zona affidabile in zona tranquilla venditore affidabile ah ma è a can eh no è questa di qua è vuoto no è certo che ancora non l'ho fatto qua prima di qua è certo che è più simpatico vabbè non c'è problema ok no è fatto diciamo devi andare là e vabbè stavano dicendo ma il cavallo stalker dov'è dov'è vediamo se c'è con c'è una pecora una pecora boiale selvatica un'altra pecora nera nera di me un'altra pecora 90 e cavallo stalker ah si è nascosto bastardo si è nascosto guarda vuole farci pensare che non c'è più ma in realtà c'è ok blocchi ok e vedi di non cadere blocco 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 che poi non ho capito perché fraps non ci fa registrare la face cioè la faccia ehi chi cazzo lo sa proprio boh a volte veramente ogni cirovele non è buonato sta poco a fare eh ma il problema perché quello non è un cervello un'intelligenza artificiale artificiale è sempre sceme sceme lo rende migliore qua eh guarda chi sarebbe più ma già l'ombra così ci metto 15 ok eh no ma devi fare la ah 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 dove qua 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 comunque io mi sembrava ciavola eh e per non perderla pittura di pigiata no vorrei cadere mi sembrava poche ore fa che avevamo iniziato la prima puntata ma si proprio veramente sembrava poche ore fa come se non fossero passate poche ore mi sembrava mezz'ora fa che avevamo fatto la seconda puntata tre settimane fa eh è sempre questa cazzo di è tornata infallibile vabbè rispetto penso a rispetto alla prima puntata la sto ripigiendo rispetto a me così vado un po' ritroso il gambero che parola molto criminal modi gambero fai il mulmulker gambero mulmulker non cadere non cadere ma perché la parte c'era una parte nel taglio stava un cazzo di creeper che voleva sederci in casa ma metterla a porta secondo me ma c'è ma dobbiamo uno strato ok abbiamo quasi finito vabbè manca poco veramente con un tetto che non finisce mai e poi stavo pensando che magari un tettone bello il tetto bello il tetto ma c'è anche questo questo è così è andato a vuoto ah e che cazzo quello è questo blocco qua ma questo non va così eh infatti non va così quindi va così bravo stavo pensando comunque nei commenti potete suggerire magari nei commenti a parte togliere questo blocco qua che non c'entra un cazzo togliete togli i blocchi togliete satana potete suggerire cosa vi piacerebbe vederci costruire fa lunga cosa perché veramente sull'iPhone ho costruito cose impensabili dell'amadona dell'amadona tettonica dell'amadona avremmo fare anche un paio di tette ma noi le facemmo ti ricorda eh sì sì però le vorremmo fare anche tipo così come dire 3D ah ma te sì tettonicamente parlando perché Mario è un architetto qua sembra uno strato no qua va continuato così così però chissi di la miss ma io ah che li ha missa Stai ancora un po' a dirle, secondo me Ma no, manca un blocco E qua c'è uno, due No, no, Antonella, no, non si può Epic fail Epic fail No, ma no Ma no, una cosa in ragazza Ma no Allora, il titolo di questo video è Epic Fail Blocchi e munizzi, viste Blocchi e munizzi Ma non ci abbiamo Era solo se sta registrando Ma ogni tanto si preoccupa che la registrazione Perché questo programma registrazione Ogni tre secondi si ferma, basta, è pieno ovrarie Infatti se vedete i file tipo stavano Ma perché a 30 così registrano? Ah, si sta Ah, bravo, fai il tuo dovere Anche se voi non lo vedete, per lo stesso sito Tipo qua, fraps E noi dobbiamo controllare che rompe i coglioni Ecco, ho fatto otto blocchi Era giusto per farvi capire Ma ce ne vogliono ancora Ah, ho fatto, ho fatto No, perché c'è la punta Che scoperta Si fotte Si fotte La punta Fottiti Oh, ma lasciamo così un lucernario No, no Così a tappo O di tappo Ah, strafico Stratifico Stratifico La copertina del video La casa Eh, buona idea Sì Eh sì, perché abbiamo fatto la casa Telefono Taci Zitta 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 Zittamento Ok Ora va fatto uno screen che si fa con F No Con Ok, posto Schermata fatta Anzi, però voglio farla Se vuoi farla, farla bene Allora, la scher E che cazzo in sua robe? Così? Eh, mettiti un po' a distanza E fa una cosa per bene Ah, sì Cazzo palla Cazzo Cazzo palla Cazzo palla Cazzo palla Cazzo palla Cazzo che palla, però Sempre grazie ai funghi Io ti metto Ho offerto da Il fungone alluminaggiano gigante Sì, però è immortale quel fungone Gio ti metto Ho offerto da Mariecraft Ok Stiamo abbellendo un attimo il tiuto Eh, certo Perché se ti fa lo screen Ed è una cosa Mette a debita a distanza Che viene il bello ripreso così Pluff E fa una bella cosa Però aspetta dire di fare una cosa Prima di fare Dobbiamo mettiamo il vetro Il vetro Il vetro Il vetro, dobbiamo mettere il vetro Che è una cosa Adesso mettiamo il vetro Eh sì In questa puntata qui Eh sì Perché poi nella prossima Cos'erriamo a un film di un'ora e mezza Sì Che lo vado a fare al cinema Io penso Che sono tutti i migliori scher In questo caso Noi vi siamo la saf Le scale Ecco ma non è sempre di accendere Camina piccina la seggia Perché non è Non è che bruciare Quindi mentre Oppure non è una legna piccionone Ma cosa hai picciato? Ma cosa hai picciato? Eh sì Guarda Tutto legno Sprecato Ma sì Tanto che le scale Cazzo nemmo fa Eh sì Sembra una merda Che cagata Chi è cagata sul tasso fitto? Facciamo il se Il se No Secondo piano Il se No Di Ma come se ci va Per questo Secondo piano Se ci va Vabbè comunque il titolo Di questo video è fail Perché poi non mettiamo solo Mari Craftita Eh certo Anche il titolo Impreziosità Così che era E simmetrico Non ho proprio visto Alla cieca Oh mio dio Vabbè che sta Eh sì Allora spero io fare solo una cosa Dove fin essere qua No una porta Alla volta E perché Usciamo avanti e dietro Alla volta del reto Alla che Eh 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 Dobbiamo prendere Il legna legna Tanta legna Sempre Ah Legna legna Questi fiori bianchi E roso ciugno Ma al culo dell'erba Non è che ci sono allucinazioni Sembra a causa del fumo Un fungo gigante Che dà l'allucinazione Un fungo allucinotto No Doveva chiamarsi Allucinocraft Come vedere Fiori e funghi Dappertutto Questa sembra Due ante Una No due Due Ma noi abbiamo i soldi Possiamo permettere Ma non è un mega villone Stile berlusconi Berlusconi ci offri una villa E qua la qua E la offriamo noi C'è lui che ce lo chiede a noi A volte ci vuo A volte ci vuo Ma va che stai senza A volte ci vuo E i soldi ci sono Sì No ne voglia Stanno noi I soldi ci sono Anche allora dobbiamo solo fare Spalare 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 merda Le tamme Spalare Ok Dobbiamo fare la foto Però E il cazzo di screen Lo vuoi fare E certo Eh dai cazzo Scegli il lato Questo qua Allora io penso Una cosa Sottodetto C'è la sottodetto La facciamo a fuocamera Così Non perdiamo Perché sto video Penso dura 15 Ma anche 15 giorni Che quindi Facciamo la screen Ma che più da lontano E che si vede tutta Guarda Ok E magari così Ok Questo maiuscola 3 2 1 Aspetta Ok Ok screenshot Andato Ok Spero Questo video Anche questo video Si è piaciuto Di avervi divertiti E vabbè Ci vediamo Alla prossima puntata Qui Bye bye